Buongiorno, Marta, Marta, fammi vedere il tuo sorriso, fammi vedere quanto è vero che stiamo attivando il tuo sorriso. Buongiorno, noi stiamo aspettando a papà che Gentleman è andata a comprare delle cose al supermercato. Ciao, come stai? Ah, eccolo che torna, è lei con un... Marta, è t'apposto? Ciao papà, grazie che stiamo andando a comprare alcune cose che ci servivano, grazie mille. Vediamo, si è appreso tutto. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Latte, filadelfi, galvanino. Ma che è qua? Marta! Marta, ma che è qua? Ma è anche opera tua questa sorpresa? Eh? Ma è per me, Fabio? Sì, sì. Maronna mia, apriamo, vediamo che cos'è. Aspettiamo insieme. Eccolo qua. Allora, lo abbiamo insieme a Marta. Allora, allora. Marta, dimmi la verità, è anche opera tua? Gli hai detto tu a papà che mi doveva comprare questo regalino? Eh? Wow, che bello! È un profumatore! Bellissimo! Ma l'hai scelto tu? Veramente, è troppo bello, amore! Wow, bello, grazie, Fabio! Per il mio non massimo. Per il mio non massimo che è stato. Per il mio non massimo. Grazie. Bello però, molto molto simpatico. A te piace? Eh certo, se l'hai scelto tu. Grazie, amo da bacino. Siamo, siamo! Arrivederci! Grazie.